Matti per il calcio UISP, quindicesima edizione, sempre un grande piacere condividere con il nostro settore calcio, con tutti i ragazzi delle squadre, questa esperienza. Un'edizione che racchiude in sé ancora di più un significato particolare perché arriva a pochi giorni dal riconoscimento del valore sociale dello sport, del valore educativo, del valore dello sport come promozione del benessere psicofisico da parte della Costituzione. La prima partita è andata... abbiamo perso sonoramente ma non ce ne importa, almeno a me non me ne importa più, anzi non me ne importa niente. Però comunque il fatto che giochiamo una volta a settimana, anche là, a Ferrara da noi, il fatto di allenarsi, di avere un'uscita sportiva una volta a settimana, per me è una terapia. Siamo a Matti per il calcio, la quindicesima edizione di Matti per il calcio UISP, un momento di aggregazione, di socialità, di promozione sociale, di 12 squadre provenienti dai centri di salute mentale di tutta Italia. In campo io sono la più scapestrata e ci sono i ragazzi che mi calmano, ci sono i ragazzi che mi dicono non fare così, mi tengo una bacchetta. Questa cosa mi fa capire come noi abbiamo bisogno, l'un l'altro, di dare lo spazio ai ragazzi, di mettersi in gioco e aiutarli nella vita di tutti i giorni. Perché poi questa sintonia, questa relazione, ce la portiamo nelle comunità, ce la portiamo nella vita reale, ce la portiamo durante i problemi con i genitori. Quindi si crea un legame di supporto che solo sport ci può dare. La UISP Emilia Romagna è molto orgogliosa di ospitare ancora una volta a Matti per il calcio. Abbiamo lavorato anche quest'anno perché Matti per il calcio fosse inserito in un calendario di eventi e in occasioni di bandi di finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna, oltre al sostegno del Comune che ci ha fornito gli impianti e una serie di servizi che in Romagna sappiamo essere unici. Siamo qui a Rimini, bella partita di questa beneficenza di Rimini per queste vere squadre, anche se abbiamo perso. Però basta divertirsi con noi, con Alcadia. L'importante è divertirsi in questo campo bello di Rimini. Un bacio a tutti. Alla prossima. Ciao.